Mi chiamo Karim, sono nato a Tunisi, sono venuto qui in Italia a 13 anni e da allora mi sento 95% italiano. Ho due passioni, giocare a calcio e poi il ballo. Vado a scuola di salsa e tutti i fini di settimana vado a ballare nei locali. In genere, sì, in genere piacciono le donne, sì. Magari non tutte, però... Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera a lei. Fisicamente vorrei una donna mora, formosa e specialmente che deve avere uno sguardo che me deve sciogliere. Da ottobre mi sono iscritta a un corso di balli latinoamericani coreografiche. Mi piace. Allora, se metto un pezzo di salsa ti faccio farlo. Sì, balli tu? Come no? Vai, vabbè, mi diverto. No, no, però non incoppia, non l'ho mai fatto, incoppia. Come non incoppia? Forse perché non ho avuto mai compagni che non ho mai saputo coinvolgerli. Io quando sono stata innamorata ho amato perdutamente, sempre. Non mi sono mai risparmiata. Vabbè, facciamo caso, ti incontro in discoteca a un locale di salsa. Che balli, mi dici te no perché ti coinvolgi? Sì, sì, no, 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 assolutamente, mi butto in pista. Te puzi? Se sei innamorata mi coinvolgi. Ti coinvolgo, ti coinvolgo. Sì, immagino. Sono diffidente perché comunque metto sempre in discussione quello che mi dicono. Ma sono aperta, non mi risparmio, non mi nego possibilità di trovare le persone. Le brave persone ci sono, esistono. Io mi sono imbattuta in quelle sbagliate ma non ho detto che non esistono. Sì, immagino.